34 bambini di secondo elementare di Fano questa mattina sono partiti con due ore di ritardo rispetto al rullino di marcia per la loro visita didattica ad una fattoria dell'entroterra. L'autista del pullman che doveva portarli si è dapprima rifiutato di eseguire l'alcol test con gli agenti della Polstrada per protesta verso queste metodiche di controlli per poi comunque effettuarlo risultando idoneo alla guida ma a quel punto visto l'atteggiamento poco collaborativo dell'autista a genitori e docenti si sono alzate le antenne ed è stata proprio la scuola stessa a fermare la giostra e prendere provvedimenti a questo riguardo. Abbiamo già contestato questo tipo di operato alla ditta, la ditta ha provveduto a mandare un altro pullman ed un altro autista, ovviamente la scuola non provvederà al pagamento di questo tipo di servizio vista la disfunzione che è stata creata e ripeto in questo caso tutto è dipeso da un comportamento assolutamente anomalo dell'autista che pur essendo negativo all'alcol test si è rifiutato pochi minuti prima di effettuarlo per una forma di protesta rispetto a quelli che sono i controlli a cui è assoggettata la categoria. Ovviamente noi ci siamo opposti a questo tipo di comportamento e anche nel momento in cui l'alcol test è stato effettuato con esito negativo ovviamente come scuola abbiamo rifiutato che fosse quell'autista a portare alla nostra scolaresca alla volta della fattoria del borgo. Morale, bambini a terra, autista che lascia il parcheggio e attesa di due ore per aspettare un nuovo autobus con un nuovo autista più collaborativo e ben disposto. Siamo noi che incitiamo questo tipo di controlli infatti la scuola ovviamente prima che parta una qualsiasi visita didattica uscita didattica effettua una comunicazione a mezzo PEC alla polizia stradale e ovviamente sia quella di Ancona sia quella di Pesaro che alla sottosezione di Fano ed è poi la sottosezione di Fano che materialmente effettua i controlli. E come si dice in questi casi tutto è bene quel che finisce bene, genitori sereni, docenti tranquillizzati e bambini felici che salutano e gita anche salvata soprattutto. Peccato però per quelle due ore perse inutilmente in un parcheggio. Il pensiero che in questo caso come delegata della dirigente scolastica rivolto alle famiglie è ovviamente di ringraziarli per quanto riguarda la pazienza che hanno dimostrato però ovviamente tutti quanti abbiamo agito con lo stesso scopo che era quello di garantire la sicurezza della nostra scolaresca che per noi è l'obiettivo primario.